buona giornata amici siamo prontissimi per la nostra rassegna stampa con la quale iniziamo la giornata oggi è venerdì 12 gennaio 2024 e allora prima di dare un'occhiata ai giornali passiamo per l'almanacco del giorno e vediamo il santo eccolo qua e san bernardo san bernardo da corleone visse nel diciassettesimo secolo al secolo filippo latini calzolaio visse sotto la dominazione degli spagnoli ed era diventato pensate il migliore spandaccino della sicilia a 18 anni però in un duello contro un avversario che lo aveva provocato lo aveva ferito e da allora filippo si ripensò entrò addirittura in seminario entrò nel convento dei capuccini e divenne bernardo ed allora condusse una vita santa fatta di preghiere penitenze e aiuto per il suo prossimo ecco dunque una conversione radicale che fece di un ragazzo che poteva diventare un ragazzo spavaldo provocatore eccetera in un santo in un umile santo capuccino questo è san bernardo ed ora passiamo alle previsioni del tempo ecco la grafica vediamo che cieli in prevalenza saranno sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata il tempo è migliorato rispetto ai primi giorni della settimana i venti saranno al mattino e al pomeriggio moderati da nord nord ovest il mare è mosso il sole sorge alle 7 40 e tramonta alle 16 e 49 questo un po il quadro della giornata una giornata diciamo così fredda perché le temperature sono scese ancora la minima è di 2 gradi la massima di 9 ma sarà una giornata solleggiata questo almeno ci dicono i meteorologi i meteorologi ed ora vediamo le le notizie che vengono pubblicate a partire dal resto delle carlino ed eccola la notizia che aveva ieri anticipato l'assessore mascarine l'assessore ai servizi educativi una bella notizia importante per tante tante famiglie fanesi santorso avrà la sua scuola media in realtà bisognerebbe dire che tutta fano avrà una nuova scuola media si chiama montesi la quarta nella città dal 18 gennaio per le famiglie disponibili quattro opzioni la riorganizzazione abolisce due circoli didattici fa parte questa decisione del dimensionamento che è stato approvato dalla regione ed è stato formalizzato da un atto dall'ufficio scolastico regionale ma tutto questo su proposta del tavolo di dimensionamento che è stato attivato nelle comune di fano dall'assessore mascarine con il coinvolgimento di tutti i presidi e dei direttori diciamo così ormai ex direttori didattici ancora sono in vigore e lo saranno fino alla fine dell'anno scolastico delle direzioni di san lazzaro e di santosso direzioni didattici circoli didattici che vengono aboliti e quindi tutto si trasforma in istituto comprensivo a fano opereranno quattro istituti comprensivi che comprendono una scuola media delle scuole elementari e delle scuole materne ovvero la gandiglio la padalino la nuti e ora anche la santosso santosso è una collocazione provvisoria ha puntualizzato l'assessore mascarine in attesa che venga costruita nei pressi della scuola elementare tombari di bellocchi la nuova scuola media la scuola media ovviamente un presidio importante perché è il primo realizzato un tempo c'era anche quello di marotta che poi è passato sotto sotto mondolfo ma che verrà realizzato appunto nel comune di fano in periferia e già quello della mantesi è abbastanza periferico e parliamo ancora di scuole perché a fondo pagina abbiamo una precisazione il corso che è stato istituito nel don orione un corso di turismo di cui aveva parlato il resto del carlino nei giorni scorsi non può essere equiparato agli istituti alberghieri di piobbico e del santa marta di pesaro c'è una profonda differenza dice il giornale tra formazione professionale e istruzione professionale per evitare fra intendimenti è meglio spiegare che fano non ha un istituto alberghiero equiparabile al santa marta o al celli di piobbico queste due scuole infatti rilasciano un diploma di scuola superiore mentre il corso professionale che è stato istituito al don orione rilascia una qualifica regionale di operatore della ristorazione per dirla breve il santa marta e il piobbico rilasciano una maturità che dà la possibilità poi di accedere ancora agli istituti superiori quelli universitari mentre il corso istituito al don orione è un corso che dà possibilità alle persone di lavorare negli né ristoranti né le cucine però insomma siccome è un triennale non si può accedere c'è ne vogliono cinque anni per andare poi all'università e proseguire gli studi questa sostanzialmente la precisazione che viene fatta e poi ieri una bella cerimonia una bella cerimonia al porto di fano è stato varato il primo stupendo yacht della wider un bellissimo catamarano da 12 milioni di euro è una villa galleggiante in titola il resto del carlino con quattro cabine più quella dell'armatore realizzata appunto nel grande cantiere wider che ancora è in corso di costruzione se ne viene ne viene occupato soltanto una campata comunque le costruzioni dovrebbero ancora proseguire pensate che queste sono le immagini del varo guardate che bello yacht ce ne sono altri quattro già impostati all'interno del capannone è un quinto è in arrivo altri quattro sono in costruzione due pronti saranno prima dell'estate quindi saranno varati prima dell'estate e in più per quanto riguarda le prospettive della organizzazione produttiva della wider è in atto anche una scuola di formazione per imparare l'arte di fare le barche e addirittura un ufficio per le start up per quanto riguarda i giovani giovani che vogliono avventurarsi in questo settore un settore che dopo la stasi del covid ha ripreso alla grande ed ora si sta assestando con una valore che è superiore alla media quindi un settore importante per tutta l'economia fanese troppe scuole snobbano i controlli oculistici è un titolo questo che si riferisce ad un'iniziativa della fondazione carifano che ieri ha presentato uno screening che coinvolge tutti i bambini delle scuole materne i bambini inferiori ai cinque anni quelli che difficilmente hanno avuto l'opportunità la possibilità o l'avvertenza di effettuare una visita da un oculista ovvero da un medico specializzato per quanto riguarda la vista e sono stati scoperti alcuni difetti non trascurabili su 153 bambini 14 sono stati così indirizzati verso l'ospedale di Fano nel settore dell'oculistica diretto dal dottor Pellegrini per approfondire gli esami insomma sono state riscontrate alcune patologie che possono essere curate a quell'età andare avanti trascurandole significa poi magari consolidarle e quindi difficilmente possono essere riparate rissanate troppe scuole snobbano i controlli oculistici perché nonostante che gli inviti siano stati diramati dalla fondazione carifano in tutte le scuole materne ancora ci sono alcune che non hanno risposto eppure i medici si recano loro stessi nelle scuole portano i loro strumenti effettuano le loro visite tutto è gratuito occorre soltanto il permesso delle scuole stesse ovviamente convalidato da quello dei genitori troppe scuole snobbano i controlli oculistici fondazione medici e l'iniziativa è organizzata in collaborazione con l'ordine provinciale dei medici ma ben 400 bambini ancora non sono stati visitati e non certo per colpa della fondazione centri svuotati resta solo il franchising ed è questa una iniziativa che riguarda che viene attuata dalla cna uno studio per la situazione economica del centro storico di fano giovanni dini degli ufficio studi dell'associazione di categoria afferma che in dieci anni le imprese artigiane sono calate del 20 per cento lunedì ci sarà un convegno nella sala della concordia un convegno che riguarda tutto l'assetto commerciale del centro storico dove vediamo che c'è più una diciamo così un assetto che uniforma l'offerta commerciale una volta c'erano gli piccoli imprenditori che attivavano dei negozi addirittura erano i coeredi di famiglie di commercianti che trasmettevano le loro professioni il loro mestiere da una generazione all'altra ora invece sono subentrati dei grandi assetti commerciali che un po' sprovincializzano sprovincializzano sì il commercio fanese ma in realtà poi non danno quel pizzico di piccola imprenditorialità che una volta faceva la differenza centri svuotati resta solo il franchising e questo un po' l'assunto di questa iniziativa ora passiamo a Colli al Metauro vediamo qui l'assessora Alessandra Cadem anzi una consigliera una consigliera comunale di opposizione si tratta di Alessandra Cadem consigliera di minoranza di Colli al Metauro che interviene interviene sulle bilancio che è stato approvato dalla giunta di Colli al Metauro un bilancio che prevede dei finanziamenti per quanto riguarda le scuole sono 7 milioni totali ma Alessandra Cadem dice ebbene bene questi soldi però ancora non viene spiegato come verranno spesi da dove verranno attinti insomma ci sono ancora molti punti da chiarire per quanto riguarda il bilancio e qui ovviamente ci sono tutte le osservazioni che vengono evidenziate dalla esponente della minoranza conto totale 7 milioni ma su come trovarli finora solo risposte fumose orti e laboratori open day negli istituti montessoriani a Fratte Rosa ci sono due scuole a Fratte Rosa che hanno adottato il metodo di studio il metodo Montessori si tratta della scuola ubicata nella frazione di Torre San Marco la casa dei bambini ed è la primaria del capoluogo Isabella Petrucci queste scuole saranno aperte alle famiglie e ai rispettivi bambini in modo che possono visitare i locali e vedere i laboratori artigianali quelli di ceramica e di cucina, l'orto biologico e molti altri interessanti spazi di carattere didattico questo open day è in atto domani dalle 9 alle 13 si tratta dell'open day annuale per così invogliare le famiglie ovviamente ad usufruire di questi servizi ed ora passiamo ad Urbino ad Urbino vediamo un bellissimo esempio di amore fraterno diciamo così Andrea ragazzo up dal microfono d'oro si tratta di due fratelli urbinati uno con una sindrome di Down appassionato di musica entrambi hanno registrato una canzone dal titolo speciale e originale si tratta di due fratelli Alessandro e Andrea Angelini uno di 34 l'altro di 36 anni che a fine novembre sono entrati in uno studio per la prima volta per registrare una canzone dal significato speciale infatti Andrea è affetto dalla sindrome di Down ma ha un'enorme passione per la musica che Alessandro il fratello con l'aiuto di un collega ha concretizzato nell'incisione di un brano trap dal titolo ragazzo up quindi veramente una bella iniziativa e anche una bella canzone a Urbino le iscrizioni ai corsi universitari sono state prorogate al 31 marzo tre mesi in più per i futuri studenti al fine di procedere con la scelta delle facoltà previste anche le agevolazioni economiche e di frequenza Urbino sempre più accogliente per quanto riguarda una delle risorse culturali ed economiche della propria città Armati di Badile per rimettere a posto le strade e beh questo è un bellissimo esempio di una comunità che non si rassegna alle ritrosie delle istituzioni che non intervengono nei modi e nei tempi opportuni e allora senza stare lì a cincischiare la comunità e i cittadini hanno preso armi e bagagli ovvero badili, picconi e hanno messo a posto le strade che erano molto molto dissestate accade a Scalocchio, pensate una frazione crocevia crocevia tra i comuni di città di Castello San Giustino, Apecchio e Mercatello sul Metauro dove le strade bianche necessitano di manutenzione e gli abitanti si sono appunto attrezzati vediamo ancora altre notizie girando pagina e vediamo che la neve sta arrivando sul Nerone e il Catria e tutte le attrezzature sportive di risalita si stanno attrezzando si stanno preparando sopra Piobbico cannoni in azione non ce n'è molta di neve ecco perché i cannoni debbono entrare in azione si tratta di qualche centimetro di nebbia che viene anche un po' occultato di neve che viene un po' occultato dalla nebbia dite incrociate dunque per il prossimo weekend ormai siamo alla fine della settimana sabato e domenica sono domani e dopo domani dite incrociate per il fine settimana a frontone funzioneranno cabinovia e rifugio ma occhio al meteo e per quanto riguarda Fossombrone abbiamo una interrogazione regionale che è stata firmata dalla consigliera capogruppo del Movimento 5 Stelle Marta Ruggeri riguarda i disagi che si sono verificati al pronto soccorso dell'ospedale nel corso delle feste natalizie nel forso delle ultime feste una situazione che non deve più ripetersi appunto Marta Ruggeri ha presentato una interrogazione all'assessore regionale Filippo Saltamartini chiedendogli quali misure verranno adottate per evitare che quella incresciosa situazione non abbia più a ripetersi e per quanto riguarda invece la pagina di Pesaro vediamo che c'è un commento di alcuni sindaci alla decisione del governo di abolire il reato di abuso d'ufficio giusto cancellarlo per la maggioranza dei sindaci e vediamo qui gli interlocutori che sono stati interpellati abbiamo Palmiero Ucchielli sindaco di Vallefoglia Massimo Seri sindaco di Fano Omar Lavanna di Mercatino Conca Domenico Pascucci di Gabiccemare Alessandro Piccini di Cantiano e Mauro Odini di Lunano il reato di abuso d'ufficio è meglio cancellarlo il sì è quasi ovviamente unanime perché si stava un po' esagerando e costituiva veramente una spada di Damocle che pesava su tutte le decisioni dei sindaci di tutti i comuni ed ora passiamo invece al Corriere Adriatico ed eccolo qua il titolo di apertura varato il primo yacht della Wider è nato il nuovo cantiere fanese l'amministratore delegato fraternali grazie alla città per l'accoglienza e il supporto della logistica siamo in crescita veramente uno splendido giuiello che le nostre maestranze sono in grado di realizzare con un'esperienza che deriva dal passato ma che si proietta nel futuro perché poi questi grandi colossi del mare sono dotati di tutti i dispositivi più avveniristici più tecnici possiamo così definirli che la tecnica che lo sviluppo riesce a mettere a disposizione è veramente insomma una villa galleggiante screening oculistico visitati 153 bambini delle materne iniziativa organizzata dall'Ordine dei Medici e dalla Fondazione Carifano la maxi intesa rischio per le primarie slitta l'incontro tra i due centro-sinistra un aggiornamento sulla situazione politica in vista delle prossime elezioni viene fornita oggi dal Corriere Adriatico il quale ci informa che è ancora in sospeso fino era ancora in sospeso fino alla prima serata di ieri l'annunciato confronto tra maggioranza fanese di centro-sinistra e il gruppo dei progressisti questa intesa che è difficile molto difficile condurre a termine ma che se non si conduce ebbene l'esito delle elezioni sarà molto molto incerto per coloro che contrastano il centro-destra ma anche il centro-destra ancora deve definire ma lì la situazione è un po' più tranquilla perché la candidatura di Luca a Serfilippi anche se ha così fatto storcere la bocca ad alcuni partiti verrà credo così accettata da tutti e questo è un po' lo spazio che viene che si apre nel prossimo nei prossimi giorni nel prossimo futuro a Lucrezia splendida d'Italia nella serata tenutesi a Villa Borghese la fascia è andata alla 17enne Pierucci una bella iniziativa per quanto riguarda le misse a fondo pagina abbiamo un incontro un incontro che si svolgerà che si svolgerà dunque vediamo un nuovo bosco per Fano è il titolo dell'incontro si svolgerà alle ore 17.30 nella chiesa del Gonfalone e si tratta di temi ambientali messa in sicurezza degli alberi il via da San Martino del Piano siamo nei pressi di Fossombrone quattro operai sono già al lavoro nella zona industriale per potature e ripoliture è stata avviata dal Comune la messa in sicurezza degli alberi che necessitano da tempo di manutenzione ordinaria in più con parti cittadini insomma si interviene per rivigorire pur la lunfa del patrimonio verde e anche sul Corriere Adriatico abbiamo la presa di posizione di Marta Ruggeri per il disservizio che si è verificato nell'ospedale di Fossombrone giriamo la pagina e passiamo a Pergola Marco Beci morto a Nasseria ve lo ricordate in dono il libro sulla sua storia il lavoro è di Varagona un giornalista molto noto nella nostra regione consegnato agli studenti del Binotti dal vice sindaco Chiara Billi scusate dal vice sindaco Chiara Billi il vice sindaco di Fossombrone era il vice sindaco di Fossombrone per i 20 anni della morte del pergolese Marco Benci funzionario della cooperazione internazionale tra i 19 italiani che il 12 novembre 2003 persero la vita a Nasseria l'amministrazione comunale con l'associazione Marco Beci ha realizzato un programma con diverse iniziative il modo poi di presentarla ai giovani è un modo così per trasmettere certi valori dalle vecchie alle nuove generazioni e vediamo anche la pagina di Senigallia Bolkestein i balneari sulle piede di guerra e adesso andiamo a Roma in presidio si rinfocola la protesta dei balneari di fronte ad una scadenza più prossima per il fine delle concessioni e adesso andiamo a Roma a protestare e beh questa è una protesta che ormai si dilaga in tutta Italia si è propagata in tutta Italia ma la situazione è ancora incerta perché c'è una legge una norma europea che impone di prendere una decisione definitiva siamo ormai in conclusione vediamo anche qualche notizia di Pesaro l'apertura la prima pagina è dedicata è dedicata a sì qui abbiamo la dedicata al problema della coesistenza tra le isole ecologiche e i parcheggi e quando si estendono le isole ecologiche si sacrificano i parcheggi i parcheggi e la cosa insomma non è certo gradita ai residenti i quali si vedono sottrarre sempre più spazi spazi importanti per la sosta delle auto la sosta è un rompicapo intitola il Corriere Adriatico e in centro ci si arrovella per il Tetris delle eco-isole Mogugni sono sorti nelle vie Oberdan e la via del teatro per i parcheggi Comune rassicura però insomma il fatto è che questi stalli vengono sottratti ogni volta quando c'è una iniziativa e vengono sacrificati appunto i parcheggi lavori a Palazzo Olivieri così cambia la viabilità è stata emessa l'ordinanza che disciplina le modifiche in vigore fino al 31 dicembre e vediamo anche quest'ultimo articolo che riguarda Pesaro e si parla degli ultimi sacrifici per la bretella tra restringimenti e sensi unici per l'avanzamento delle cantiere di Muraglia dalla prossima settimana in vigore ancora nuove ordinanze e ci saranno nuove ordinanze per una direttiva più razionale per quanto riguarda la viabilità compatibilmente con i lavori che verranno effettuati è veramente l'ultima notizia a questo punto chiudiamo le nostre pagine e io come sempre vi do appuntamento per la rassegna stampa di domani alle ore 7 grazie per l'ascolto a risentirci grazie per l'ascolto